musica cari amici benvenuti in questo nuovo video di lego wands yeee siamo veramente contentissimi che la prima puntata avesse piaciuta tanto quindi grazie grazie a tutti siamo quindi pronti per continuare la nostra folle avventura in questo mondo e tra l'altro è rosa quella terra ho scoperto un muro di pietra rosa l'importante è che è rosa no che non ci credo ho le palle di fuoco ma non mi distrugge tutto che cosa non lo sapevo col destro posso saltare col sinistro sparo era meglio se non lo sapevi neanche nooo quindi i tipi possono avere delle cose no che cosa sono no torno a quello che non è quello che mi dice ma no cosa ho fatto il mano cattivo cattivo ma scusa ma tutti o solo alcuni tipo lo scheletro ha qualche caratteristica vediamo un po' lo scherzo prende a pugni lo scheletro urla lo scheletro urla vabbè vabbè a sto punto compro l'uomo delle caverne scomento che che c'ha la clava vieni qua facciamo tutto in modo primordiale vai 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 tu sei primordiale lui cos'ha lui cos'ha vabbè neanche una pistolina c'hai ma che scarso ma c'hai un cielo potrebbe usare quello che scarso si ce l'ha ma fa schifo posso distruggere tutto però non mi ha lasciato niente che vuoi che ti lasci hai distrutto tutto se lo distruggo tutto non mi lascia che bacche non mi lascia la roba quindi bisogna stare attente a quello che si distrugge a pugnetti vai ok guarda che posto non è che ci trovo il drago magari si il drago del nether se ci vado mi faccio male vero si prova prova ma ho paura ho paura non me la sento ci vado se ci butto un tipo non provarci non posso buttarci non provarci vabbè ci butterò la macchina ma perchè? ci butto la macchina bisogna fare dei test ma perchè vuoi testare queste cose? allora già la cosa come se guida la macchina è un pochino strano allora esci al momento giusto esci eh hai visto adesso? voi ti interesse? io quasi quasi no no sono contento di non essere mai sentita in alto sembra che non serve attento che diamine no sai cosa? ci vorrebbe qualcosa di volante no non vola sto qua devo trovare qualcosa mi sa che sei bloccato sai è un po' un brutto posto quasi quasi faccio il giro che ne dite? è una buona idea anche giusto qualcosa in acqua no voglio troppo trovare della nuova roba un santo marino riprendiamoci una foca ma che foca riprendiamoci un attimo una macchina e partiamo via sta diventando notte mi ha aperto i fari e te arriveranno di zombie adesso e te arriveranno di zombie e te arriveranno di zombie sarebbe gli e verranno ammalgiati tutte le piante ma che perché mi ha sempre insegnato quel casuale non sono più tanto convinto che mi abbia insegnato bene il casuale ma sei sicuro quella patente che ti ha dato fosse valida? no lo so sto lasciando tutte le monete dove vado? nella lava? non mi piace l'idea faccio questa fatica ecco sai che cosa mi ricorda? è montato no non l'avevo visto ops ma dai c'era le spawner ma che cavolo c'era le spawner il drago il drago dimmi che lo posso prendere sei mio sei mio amico non hai detto che sei d'accordo il drago si può fare ho trovato il drago c'era un tizio che camminava allo scheletro vieni qui allora fa vedere jump, spare, fly aspetta fly fly ok spari giusto drago giusto? giusto? si si no l'hai mancato l'hai mancato sei troppo lento sono più bravo io a piedi sono più bravo io a piedi che tu vai via sta cosa ho capito vai 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 non buttati la lava aspetta che ti amm... scusate devo imparare ad ammazzare gli scheletri col drago aspetta un attimo non mi seguire ho paura dello scheletro mi segue hai un drago ai paura degli scheletri si guarda mi stai seguendo mi stai seguendo aiuto ma gli hai fatto un cratere hai fatto un cratere per un povero scheletro lo guardai lo sto liberando e uccidilo mamma non muore mai non muore è già morto è vero prende... no vai via vai via scappa scappa aspetta c'è lei lì e... non bruciare lei ok non posso uccidere gli altri personaggi prendila non ce l'hai con il personaggio ora quando costa 10.000 però posso avere il drago e finalmente uno trova il drago e scopre di essere più forte a piedi però ci tenevo che vergogna ci tene... ah un attimo ci tenevo tantissimo ad avere la... avere una creatura volante oh accidenti l'ho trovata subito godiamoci il momento ah che cosa bella che bello fresco che c'è qui che cosa bella guarda che vulcani mancano solo due hobbit con un anello guarda bellissimo veramente sapevo che ci fossero i drago e non mi aspettavo di trovarlo così presto è veramente il gioco del secolo è stupendo giuuu drago uh è schiettare presto vero? no non schiatto mai uh sono validi quelli no che hai messo la coda nella lava? si ma stupido gatto ho messo ho messo la coda del drago pieno di quelli che ho mette in giro ho visto uh cos'è pieno 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 di maghi qui si ma dove l'avete piazzata quella? posso buttarla giù? no 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 non farlo posso buttarla ma se le sparo cade? dai cadi buttala non è caduta nella lava del tutto intera no posso posso magari posso ecco dove vai nella lava? c'è morto papà no no come hai impotuto ma sei veramente furbo eh ma sei furbo eh oh miro meglio perché vuoi dare fuoco ai tuoi colleghi? ops mi sa che mi sa che addio no sono ancora vivi uno uno hai ragione meglio meglio entrambi salutarvi entrambi ok bene scendiamo la coda del drago ora andiamo a pescare servirà a pescare ruotalo è pur sempre una canna da pesca proviamo magari puoi anche stuzzicare i cidenti se ti c'è rimasta della carta igienica non lo fa ecco qua che cos'è questo oggettolo? è un mini space shuttle eh si va verso lo spazio si 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 che cosa serve allora a sto posto? serve per farci un barbecue ora va bene che non serviva ma questo mi sembra un po' eccessivo stai spaventata stai con la cosa rosa cos'è? andrò a prendere non è rosa è verde è verde è una macchina ma non è quella che hai vissuto prima? no non è un'altra ho dato un'altra macchina mi dispiace drago largo è la tecnologia ma cosa? wuhuu super macchina verde mi piace dimmi che è super veloce è tipo una roba pazzesca ma non vola vai vai eeeh vabbè drago ci rivediamo io vado a piedi vado a piedi vado a piedi cioè piedi piedi gommosi molto gommosi quindi ho trovato qualcosa comunque eeeh e questi è un canguro eeeh magari sono degli iceberg siete pure che sia un buon posto ad attraversare con la macchina? eeeh non lo dice dici che io dovevo ottenere il drago eeeh forse si sai dici che dago scuola orso posso parlare dammi l'orso scendita con lo schifo per l'orso meglio o orso 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 non so guidare a non investire l'orso in questi casi quando una macchina non può ci vuole l'orso no ma cazzo non te la cazzo aaaah eeeh eeeh mamma mia ha dato che volare questo dai e l'orso ce la fa no orso meno male che sono indistruttibile ma non sei fatto male ciao si può mettere in piedi? mettiti in piedi anche tu non se ci stesse sopra magari oh il cagnolino miau 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 dammi il cane posso guidare il cane posso guidare il cane ma sei troppo grosso che stai sul cane andiamo evviva posso distruggere i sassi serve qualcosa di distruggere i sassi io distruggere i sassi ok cani occhio bellissimo cosa sono quelli? i pupazzi di neve di prima sono col cappellino fashion eh? mi sono perso il cane cane mi sa che ti sei perso tutto cane eh? buon animale buon orso mi sono perso il gatto del neve ci vuole un bel gatto del neve miau esattamente che cosa è appena successo cioè ho visto qualcosa e vedo dei blocchi morti e se li sono mangiati i cani cioè il cane si è mangiato un orso no più o meno quello che ho visto sembrava una roba del genere spiegatemela non si può mai dire spiegatemi che cosa è successo vai cane cosa lo stai obbligando a fare quella povera bestia? sta spaventando l'orso eh beh si si mao 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 com'è che sono andato sull'orso vabbè non lo so non importa lo ieti cos'è? è lo ieti no è lo ieti è lo ieti è lo ieti non no ma non ti sei deve sul non picchiare l'orso non ci creda te l'ho visto giusto sti cani mangiano gli orsi non è possibile vai a fermare il foot siamo ci stiamo fissa sei amichevole? ciao no scusa scusa hai ragione hai ragione perchè? lui esplode perchè gli altri no? cos'è? una casetta di lanciola no altri ieti smetti la cane è il cane che sta facendo un massacro non ne fai uccide tutti gli orsi è una casa di cani fermo cane a cuccia a cuccia no no va dall'altra parte mi stanno deforestando gli orsi sti cani come c'entro? ci si può abbassare? non posso entrare scusi ma non era abbastanza vabbè no no devi entrare scusi se ne sto bussando un po' forte ma se no non si riesce a entrare un tesoro un tesoro cos'è? cosa trova? c'entra dentro c'entra dentro c'entra dentro il fucile il fucile che bello perché c'è un fucile in mezzo alla neve? il nostro primo oggetto il blunderbuss quando arrivi in ritardo la fermata dell'autobus blunderbuss e fai e blocchi l'autobus non fa niente non fa niente fai schifo blunderbuss è più buona volcani dove mi so dove è andato il blunderbuss dove è il blunderbuss? ci dovevo bigfoot anche se non si chiama bigfoot ma niente è un osso è un osso non è il bigfoot è andato via bigfoot aiuto aiuto mi devo testare se funziona qualcosa serve qualcosa serve qualcosa ecco no ho mancato ho mancato ho mancato messaglio quanto duri? perché non ci sono cani? ma i cani quanto quanto mortono se io con un blunderbuss non riesco a tirarlo giù oh i cani hanno parecchi tempi vai via vai via aah come fa? perché che ti mangia? aiuto aiuto aah aah aspetta scusa scusa buon uomo buon orso esattamente posso come lo tolgo ecco lo tolgo toglilo toltilo l'ho tolto cosa me ne faccio del blunderbuss? sono gandalf vai addosso ma un gandalf è tu no 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 mi sto ammazzando mi sto ammazzando mi sto ammazzando aiuto devo rifugiare in casa rifugiati rifugiati non ci entro non ci sto non come faccio vai su ecco uuuu sei sicuro che no no ma se mi chiedi ho sbagliato a colpirti non l'ho fatto apposta ma c'è davvero la bombina magari mi trasformo in questo e non mi nota più eh ora tu non sai che io sono perché sono diventato non lo so che potere ha? mamma visto mamma mia che potere ha? mamma mia vai colpiscello annegalo annegalo no uno di vita uno di vita anche tu hai uno di vita uno di vita uno di vita ma è immortale c'è una sola soluzione morire? no no un'altra un'altra ho una sola soluzione per salvarmi mi dispiace ma è solo questa il cane che il drago c'è il cane vai il cane vai 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 aiutami aiutami mangialo non gliene può interessare meno guarda mangialo a mio favore e io ho paura qui da solo prendi il drago mangialo prendi il drago te lo mangi? prendi il drago mangialo mangialo aiuto cane aiuto non so non mi aiuta scappo scappo col cane scappa col cane scappa scappa ecco non riesco a prenderlo rifallo rifallo avete appena assistito a tarzanelle eh si quando è in vacanza però eh ora ora ok abbiamo mi sta ancora seguendo no vero? cioè ecco e basta basta ok anzi è il tarzanelle che bello ciliegi vienelo 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 vieno 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 sono salvo la fuga più amica negli alberi rosa perchè? si perchè sono ciliegi in fiore quanto è bello questo gioco ogni volta che esploriamo c'è di tutto e si è quasi morto e chissà e chissà posso recuperare vita? lampeggi come faccio recuperare vita? muoio no no vabbè schiantati con l'aereo l'abominevo il uomo degli elicotteri l'abominevo l'ell degli elicotteri allora questo guido poi ok e mi abbasso è più comodo del drago però non spara peccato mi accontento via via quella tipo là no quel tipo là ce l'hai già chiudi il dito via ok allora godiamoci il panorama in questi schifosissimi alberi ahhhh si vengono ma io posso anche raccogliere gli alberi sono i funghi giganti avevi visti li ho visti i funghi vediamo un po' posso raccogliere posso raccogliere gli alberi? ormai si sarà andato no gli alberi non mi ho appeso oh che bello da 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 ancora ancora basta basta mi piarendo hai vinto hai vinto basta ok hai dovremmi cogliere lo scoraggio faccio la faccio più mettami seguimi no non voglio non voglio vai via vai via scappa a terra di sopra oh 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 questo non sei più nel tuo habitat che belli guardate che bella sta zona dei funghi c'è anche quelli picci si ma non fammi vedere l'oceano voglio vedere questi i funghi ci ma comunque veramente è ancora non è ancora finito ancora il near the access ma lo trovo già veramente bellissimo allora speriamo anche voi comunque vedendolo prima puntata mi immagino di si e siamo veramente quelli funghi no la dottoressa non cadere dottoressa eh aspetta allora c'è una magari ha un estetico per l'orso mi sto facendo male da solo tanto sei già quasi morto va bene a questo punto dovrò farlo vieni qua drago è è l'unico modo per liberarci di quello perché non se ne può più ok ci sei ancora draghetto? no non c'è più in draghetto c'è l'orso che è ancora che ma sta sta pregustando sta ok ficcano giù ficcano giù sta facendo come come il cocodino di capitano uncino uguale sta pregustando ok ok direi che l'abbiamo infossato abbastanza non si può uscire speriamo di no mi hai visto come scalava prima comunque guardate che bella anche questa zona veramente abbiamo trovato tantissimi biomi diversi e chissà quante altre cose ci sono da trovare più esploreremo questo mondo e contando che comunque ogni mondo è diverso l'esplorazione un quadrifoglio è un quadrifoglio no ah quello? si un quadrifoglio bellissimo ok cos'è quello? chi? quella bestia è un maialotto un maiale ci trova sempre roba nuova maiale vieni qua vieni qua maialotto c'è 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 maialotto vieni qua oh ho trovato il maiale scappatore e ora ci sono i cestri mi ricorda minecraft quindi se ci sono veramente i cestri concluderemo questa puntata con lo spacchiettamento sii qui si va a incastrare lì dentro vedo che scalano questi maiali no è più forte è più forte l'orso si scala meglio l'orso del maiale vieni qua se sono spagato ci vorrebbe la cap va su dove sto andando ho parcheggiato un drago qua oh cesti veramente quindi per concludere questa foto e puntata doppio no non è vero ah spacchiettamento vabbè piccolo spacchiettamento ma che sa di quello stesso grazie a tutti per stati con noi eeeぇ alla prossima con l'eterno ciao